il pubblico è terminato ecco il gran finale qua al comunale di Atessa il nostro presidente abbiamo dato il spettacolo ecco il pubblico numeroso qua al comunale di Atessa questa giornata dedicata alla categoria esordiente anche al 13 ecco ecco adesso c'è un briefing un breve briefing è terminato terminato ecco 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 mister mister Vi saluto anch'io! Ai prossimi video, qua da Tessa vi do la buona serata.